Ciao ragazzi, sono Alessandro, studente di medicina presso la Maseric University. Con questo video volevo informarvi che venerdì 12 maggio alle ore 18 ci sarà un webinar informativo organizzato da Medical Tutor in cui vi descriverò la mia esperienza qui alla Maseric University e come anche studiare medicina all'estero. Vi aspetto!